Stai perdendo un sacco di capelli e hai iniziato a utilizzare il minoxidil. Sbagliato. Devi sapere infatti che il minoxidil, che è uno dei trattamenti di elezione per la ricrescita del capello, non va utilizzato nel caso in cui si ha un effluvio in corso o un effluvio acuto. Perché? Perché il minoxidil sincronizza il capello nella stessa fase e porta la cosiddetta caduta indotta dalla terapia. Perché questa caduta indotta? Perché i capelli deboli vengono sincronizzati nella fase telogen e iniziano a cadere. Per far spazio ha un nuovo capello, ancora più forte e che durerà nel tempo. Ci sono però tutta una serie di effetti collaterali del minoxidil che andremo poi a spiegare successivamente. Quindi attenzione all'utilizzo perché potresti perdere più capelli di quanto tu ne stia perdendo.